Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha partecipato ieri alla campagna Io sono Plastic Free del Movimento 5 Stelle sul litorale sarenitano, in particolare sulla spiaggia di Eboli. Iniziativa che si estendeva dalla costiera amalfitana fino a Sapri, che ha coinvolto migliaia di cittadini. Un'iniziativa piena di passione per l'ambiente e di senso civico. Il messaggio è quello che la plastica usa e getta deve essere abolita dall'uso quotidiano, perché è dannosa per tutti. Ci sono alternative altrettanto comode all'usa e getta, ma che non danneggiano niente e nessuno. Ringrazio tutti i portavoce, tutti i cittadini che, al di là del movimento, vogliono partecipare proprio come senso di partecipazione sulle spiagge per sensibilizzare, informare, iniziare un percorso plastic free. Cioè, non utilizziamo la plastica usa e getta, utilizziamo il biocompostabile, utilizziamo tutto ciò che non inquina, non inquina il territorio, non inquina il mare.